Il dolore, lo sconcerto di tragedie di questo tipo avvenute peraltro di notte in una situazione in cui i soccorsi sono arrivati subito, ma le tragedie si aggravano dal fatto che la seconda maggioranza fa freddo ormai, non sanno nuotare, non sanno dove andare, una tragedia infinita, altri 400 sono stati salvati, come sapete, nell'altro barcone, 11.000 siriani sono arrivati in Bulgaria ieri, insomma un esodo, una tragedia infinita che è un po' l'esodo, il risultato della guerra siriana per quanto riguarda i siriani e se no tutto questo fiume disperato e umano che sale da un certo punto dell'Africa via Libia.